L'ospedale Bonomo di Andria punta dritto al rilancio dell'attività chirurgica. Lo fa affidandosi alle capacità operative e manageriali di tre nuovi direttori di struttura complessa del Dipartimento, chiamati a ricoprire un ruolo di rilievo e di importanza strategica per il futuro della sanità nella BAT. Si tratta dei dottori Enrico Restini, Armando Rapanà e Vito Conserva, rispettivamente a capo dei Dipartimenti di Chirurgia Generale, Neurochirurgia e Ortopedia e Traumatologia. La presentazione ufficiale dei tre nuovi direttori è avvenuta questa mattina nel corso di una conferenza stampa ospitata presso la sede della Direzione Generale dell'AS di Via Fornaci, a fare gli onori di casa il Direttore Generale dell'Ente Sanitario Provinciale Ottavio Narracci. Questi incarichi, con tutte le difficoltà legate agli iteri amministrativi che sono abbastanza complesse, sono state portate a compimento ed è per questo che oggi, a conclusione di questo ciclo, abbiamo il piacere e l'onore anche di, l'abbiamo già fatto per i primari, per i direttori che sono stati nominati nei mesi scorsi, ma abbiamo il piacere di comunicare che questo ciclo che abbiamo trovato, avviato due anni fa, si è chiuso e quindi, con particolare riferimento al comparto chirurgico dell'ospedale di Andrea, che ci sta particolarmente a cuore e sta particolarmente a cuore alla comunità, perché l'ospedale di Andrea è un DEA di primo livello con una forte vocazione chirurgica sulla emergenza urgenza, noi abbiamo i direttori della neurochirurgia e della ortopedia e traumatologia, già ormai da un anno, e quindi già con riferimento a questi reparti, a queste unità operative, noi siamo già in grado di documentare un significativo e visibile miglioramento, quali quantitativo della produzione chirurgica, ma fondamentalmente una, diciamo, ripresa della capacità del presidio ospedaliero di Andrea di essere riferimento per queste problematiche. E con il nuovo conferimento dell'incarico di direttore della chirurgia generale, che abbiamo perfezionato nelle scorse settimane, chiudiamo questo ciclo. Le tre nuove nomine rappresentano la continuazione di un percorso di potenziamento dell'attività chirurgica nel presidio ospedaliero di Andrea Canosa, e più in generale, dei servizi sanitari a livello provinciale, e la risposta, a qualche critica di troppo, proveniente dal mondo politico in merito all'efficienza delle strutture ospedaliere. Se ci riferiamo al fatto che da più parti a volte si paventa un disinteresse verso, o quantomeno, una rassegnata attesa al decadimento di alcuni ospedali, in particolare di quello di Andrea, io credo che questa sia, diciamo, la risposta più efficace, considerato che sono partite le procedure anche per assegnare le direzioni di struttura, anche dell'aurologia, altro reparto importante che abbiamo difeso con le unghie nell'occasione del piano di riordino della Regione Puglia, la nuova direzione anche del pronto soccorso dell'ospedale di Andrea, ecco, io credo che ci avviamo ad una ricomposizione di una squadra di direttori che rappresenta un momento essenziale per garantire sicurezza, attrattività, punti di riferimento agli operatori. I finanziamenti ci sono, i progetti li stiamo avendo e quindi tutto quello che abbiamo previsto di fare nell'ospedale di Andrea lo stiamo facendo e si farà senz'altro. Grazie.